I nuovi dati del bollettino sulla diffusione del covid in Abruzzo, confermata la tendenza dell'ultimo periodo, ovvero ricoveri ospedalieri in calo, anche se oggi rispetto a ieri è aumentato il numero dei casi positivi al virus. Ma per i dettagli ci colleghiamo con Anna Di Giorgio che si trova a Pescara e che saluto. A te la linea Anna. Sì Paolo, buonasera a te, buonasera ai telespettatori del Tg8. Prendiamo la linea in questo momento da Pescara alle nostre spalle, lo potete vedere dalle immagini della telecamera di Andrea Berardinelli, c'è il centro vaccinale di Pescara allestito al Palafiere d'Anelli lungo via Tirino. E allora vi diciamo che i dati di oggi relativi al bollettino sanitario sono 177 nuovi positivi riscontrati su 4962 tamponi molecolari e 2728 tamponi rapidi. Tutto questo porta la percentuale dei positivi al 2,3%. Questi 178 nuovi positivi che sono stati individuati e registrati nel bollettino di oggi, mercoledì 28 aprile 2021, hanno un'età compresa tra 7 mesi e 98 anni e sono così suddivisi nelle quattro province abruzzesi. Chieti, la provincia di Chieti, fa registrare oggi un più 56 contagi, seguita da quella dell'Aquila con più 52, poi da Teramo, la provincia sempre di Teramo con più 42, ultima in questa graduatoria delle province, la provincia di Pescara con più 22 nuovi positivi al Covid-19. Per aggiornare il bollettino dei deceduti vi diciamo che ci sono oggi 6 nuove morti, il che porta il totale dei decessi a 2.391 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Queste 6 persone decedute hanno un'età compresa tra 61 e 98 anni. I dimessi guariti sono più 229, gli attualmente positivi sono 8.556 e in questo caso c'è una flessione di 58 unità. Gli ospedalizzati sono in tutto 389, meno 11, quelli in terapia intensiva sono 42 e in questo caso il dato registra un meno 3. Infine in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asle ci sono 8.125 persone, dato questo che decresce di 44 unità. Dicevamo che prendiamo la linea dal centro vaccinale Paladanelli-Palafiere di Pescara dove sta andando avanti la campagna vaccinale contro il Covid-19 e che si avverrà in tutta la provincia di Pescara anche prossimamente del nuovo centro vaccinale della Val Pescara che si sta allestendo a Scafa in questi giorni, appunto in queste ore e in preparazione proprio all'allestimento di questo centro vaccinale della Val Pescara che sarà un punto di riferimento e oggi proprio sempre con la telecamera di Andrea Berardinelli abbiamo intervistato il sindaco di Scafa Maurizio Giancola che ci ha parlato proprio delle procedure dell'allestimento di questo centro vaccinale che dovrebbe essere operativo entro la prima decade di maggio e servirà a 17 comuni per un totale di circa 33.000 errotte persone della Val Pescara. Sarà un punto di riferimento e sarà un punto di forza anche della campagna vaccinale che servirà ad accelerare le operazioni di immunizzazione della popolazione proprio nella zona della Val Pescara. Al momento ci stanno lavorando, sono all'opera ovviamente i volontari della protezione civile con i volontari dell'Associazione Nazionale Alpini per la sezione Abruzzi e i militari del nono reggimento dell'Aquila Battaglione Vicenza che stanno lavorando celermente per mettere a punto le strutture che serviranno all'accoglienza e alla somministrazione dei vaccini. La capacità di questo centro vaccinale sarà di 120 vaccini all'ora, è stato detto, per un totale di 800 o 1.000 dosi al giorno. Si tratta del piazzale, dicevamo, dell'italcementi a Scafa su una superficie di circa 600 metri quadri e sarà anche un centro che cercherà poi anche di fungere da rilancio per tutto quanto il comune di Scafa come ci è stato spiegato, dicevamo, dal sindaco Maurizio Giancola e poi dal presidente della sezione Abruzzi dell'ANA, Pietro D'Alfonso che abbiamo sentito proprio oggi. Se sei d'accordo Paolo con queste interviste poi io e Andrea Berardinelli potremmo restituirti la linea qui da Pescara. Maurizio Giancola, sindaco alpino in questo caso del comune di Scafa, siamo nel piazzale dell'italcementi, anche il comune è impegnato per la realizzazione di questo importante centro vaccinale. Qual è stato l'impiego delle vostre forze per la realizzazione di questo centro? L'impegno è stato notevole ma con grande soddisfazione. Noi quando abbiamo ricevuto la richiesta di un'area da parte della protezione civile ci siamo attivati subito con l'italcementi e devo dire che con grande sensibilità nel giro di mezz'ora mi hanno dato la disponibilità dell'area. Abbiamo provveduto naturalmente alla sistemazione di questo piazzale perché era un piazzale di fatto non più utilizzato dagli talcementi da oltre otto anni. Quindi manutenzione delle scarpate, pulizia, abbiamo posto in opera asfalti per sistemare meglio l'area, abbiamo riattivato le torri faro, abbiamo risistemato la rete fognaria, quindi un lavoro di logistica in preparazione di quello che poi la protezione civile e gli alpini avrebbero dovuto fare in seguito. Devo dire in verità che sono anche giunti in nostro soccorso sia gli alpini del nono reggimento L'Aquila, il battaglione Vicenza, sono giunti in nostro soccorso molti volontari che sabato si sono adoperati. Quindi una grande mobilitazione di imprese e di cittadini affinché questo centro diventasse realtà. Centro, ribadisco, che ha sede a Scafa, ma è il centro della Val Pescara. Servirà 17 comuni per una popolazione di circa 33.500 abitanti. Un ringraziamento, non posso che spenderlo per la protezione civile, Ana. A proposito abbiamo proprio Pietro D'Alfonso che è il presidente della sezione Abruzzi dell'Associazione Nazionale Alpini. Quanto vi state impegnando anche voi? Qual è l'impegno di mezzi e uomini della vostra associazione per portare a compimento quest'opera? L'associazione della sezione Abruzzi sta partecipando nelle linee vaccinali in Abruzzi con circa 250-300 volontari. Qui su Scafa siamo intervenuti con una media di 35-40 volontari. Durerà circa una settimana e pensiamo che nella prima decada di maggio possiamo dare disponibile l'area.